Allora ragazzi, oggi siamo a Montalbano, a impianto Don Paolo, e andiamo a provare la nuova moto elettrica più potente al mondo. Guardatela. Partiamo con la Mapa 1. A tutti i amici da Taranto che vogliono venire a provare questa pesca, l'impianto Don Paolo la metto a disposizione per voi. Andiamo a provare.